gli altri 16 martiri cristiani in Chad, migliaia di fedeli in fuga dal terrore dell'Isis in Iraq. Insomma, non si ferma l'offensiva contro i cristiani in varie zone del mondo. Un orrore senza fine. 16 pescatori cristiani sono stati uccisi e poi decapitati dal gruppo terroristico Boko Haram sulle rive del lago Chad, nello stato nigeriano di Borno. Il massacro ha avuto luogo lunedì scorso ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri perché l'area del lago Chad è priva di ogni tipo di collegamento telefonico e i superstiti hanno dovuto raggiungere la capitale dello stato di Borno per dare l'allarme. Le vittime sono tutte originarie del Chad, spiega Monsignor Rosario Pioramolo, vescovo di Corè, dove negli ultimi mesi si sono verificati molti attacchi da parte dei fondamentalisti. In Chad gli attentati si sono moltiplicati causando oltre 70 morti e 200 feriti, ha proseguito Monsignor Ramolo, con le violenze che si sono verificate soprattutto nella capitale e nelle aree al confine con la Nigeria. Secondo il vescovo di Corè, l'aumento di questi episodi di violenza sarebbe legato all'intervento del governo Chadiano che ha dichiarato apertamente guerra ai fondamentalisti di Boko Haram. Ma la caccia ai cristiani purtroppo si ripete in molte altre zone del mondo. Isis sta uccidendo il nostro futuro, così Suor Giustina, delle suore domenicane di Santa Caterina da Siena, racconta ad aiuto alla chiesa che soffre. Il dramma vissuto nel 2014 da tante religiose costrette sotto la minaccia del califato a fuggire dalla piana di Ninive insieme a 120.000 cristiani. Nei primi otto mesi dall'invasione dello stato islamico, ha affermato Suor Giustina, abbiamo perso dodici consorelle. La religiosa era tornata ad Ancawa nel 2014, sobborgo a maggioranza cristiana di Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno. Assieme ai profughi, alla casa delle domenicane di Ancawa, molte consorelle, nonostante il terrore, rimasero nel villaggio cristiano per sostenere le tantissime persone in difficoltà. Oggi la fondazione ha approvato due nuovi progetti, uno per finanziare sei mesi di affitto di alloggi per i cristiani rifugiati ed uno per l'acquisto di pacchi di viveri per 13.000 famiglie cristiane in Kurdistan.